Sono entrambi due lavori nella quale secondo me deve metterci la stessa intensità di energia, concentrazione, dedizione sia come mamma sia come lavoratrice. La cosa che penso sempre è che sono contenta di avere assunto un ruolo di responsabilità da mamma, quindi già avendo vissuto l'esperienza della maternità, perché mi ha cambiata molto. Ho sicuramente sviluppato una capacità sia organizzativa e sia di una certa determinazione che prima magari non avevo. Ho scoperto che è una cosa che mi piace tantissimo, essere mamma e essere manager. Non l'avrei mai detto, ho sempre pensato fino alle scuole medie che il mio posto era soltanto quello di fare la mamma un giorno, probabilmente perché mia madre era una mamma lavoratrice a tempo pieno. Io sentivo molto la sua assenza in casa. Crescendo invece ho cambiato completamente prospettiva, mi sono buttata nel mondo del lavoro capendo che avevo bisogno di una soddisfazione personale a livello professionale, però poi la vita naturalmente ti sorprende e ti ritrovi a una certa età che hai voglia di avere dei figli. Ed oggi sono veramente contenta, soddisfattissima di poter trovare sia la mia dimensione a livello lavorativo, sia la mia dimensione a livello familiare come mamma, perché comunque riesci a soddisfare due sfere di te come donna e in entrambe mi sento particolarmente soddisfatta. Grazie per la visione!